Sotto il sole cocente dello Stadio Friuli, altra giornata di presentazioni all'Udinese. Il secondo nuovo acquisto della stagione è un rientro dal prestito al Genoa e De Nilsson che ha fatto benissimo con la maglia rosso-blu e si presenta motivato alla nuova stagione con l'Udinese. L'emozione è grande, aspettavo di indossare la maglia dell'Udinese, non vedevo l'ora. E adesso pensiamo tutti che è un anno importante, un anno con un stadio nuovo, con un entusiasmo nuovo. Speriamo che va tutto bene anche al campo. L'Udinese è la squadra che mi ha portato in Italia, quindi ho firmato per l'Udinese, 5 anni e era la maglia che volevo indossare prima. L'anno scorso sono andato al Genoa, l'ho fatto bene, però volevo tornare all'Udinese. Ovviamente lui si presenta come esterno-destro, ma è un giocatore molto d'utile che può fare tanti ruoli e quindi assolutamente non viene nemmeno contemplata una concorrenza ipotetica con Silvan Widmer. Lì mi hanno chiesto se poteva giocare una partita perché non c'era nessuno mancino per giocare lì. Sì, sono adattato bene. Io anche in Brasile ho giocato a mezz'ala e anche a mezz'ala e anche a sinistra. Quindi io sono un calciatore a disposizione delle squadre sempre e questo è l'importante. È buono, questo è buono. Quando si vede due giocatori di questo livello, diciamo che la rosa è una rosa importante. Quindi se la società fa questo, di avere due giocatori di un buon livello per ruolo, facciamo una grande squadra. L'attesa e la voglia di giocare nel nuovo stadio, di ricominciare da zero con il mister Colantuono e poi anche una chicca sulla scelta del numero particolare, numero 12. Adesso io ricomincio da zero come tutti. Quello che ho fatto al Genoa lo lascio lì. Adesso ricomincio come tutti. C'è un annellatore nuovo, penso che siamo tutti da zero. Ho visto solo per fuori, non sono entrato ancora, ma mi sembra bellissimo. Non vedo loro giocare. A me mi piacciono tanto le cose così nuove quando le fanno per portare i tifosi. Spero che vengano tutti a vedere, a dargli stimolo alla squadra che ha bisogno. Quest'anno è l'importante per tutti. Ho scelto il numero 12 perché al Corinthians e al Genoa ho giocato con la 21 e qua non era disponibile. Ho scelto la 12 che è invertita e anche la data di nascita del mio bambino.